e mi occupo dell'infrastruttura tecnologica e informatica dell'azienda ospedale di Padova, dell'azienda U16, dell'istituto oncologico Veneto, sempre da Padova. Quello che abbiamo appena visto in qualche modo l'abbiamo fatto. Non siamo partiti con l'idea di salvare il mondo consumando poco, però abbiamo visto che alla fine in qualche modo questo risultato l'abbiamo ottenuto. Noi abbiamo un policlinico ospedaliero, un istituto oncologico Veneto, un ospedale Sant'Antonio, un altro ospedale Caicolli, la sede dell'Ulss, sede in magazzino, servizi economali che sono distribuiti in tutta la città e poi distretti e sedi vari. In tutte queste zone noi facciamo in programmatica, portiamo PC, fino a qualche tempo fa PC tradizionali, in qualche modo adesso stiamo cambiando. Abbiamo un'azienda ospedaliera, un'università, quindi abbiamo anche la parte universitaria del policlinico, circa 10.000 utenti, 4.000 PC aziendali, 2.000 PC universitari, 180 server che sono praticamente quasi tutti virtuali, c'è rimasto qualcosa che stiamo cercando di chiudere, circa una ventina, migliaio di elettromedicali, 30.000 pese cablate, 500 e passa a parati di rete. Siamo partiti dal problema delle stazioni di lavoro. Lavoro in situazioni critiche, pronto soccorso, situazioni in cui c'è tanta polvere, sono messe sotto i tavoli, le temperature non sono mai ottimali, quindi queste macchine si rompono e dobbiamo sistemarle. Le problemi che diceva che il santo può aiutare non è vero, anche da noi si rompono le macchine, il santo Antonio non ci aiuta tanto in questo caso, quindi è devono in qualche modo all'arrangiarsi. Costi di gestione elevati, il numero di PC, 4.000 PC, comporta una gestione estremamente pesante. I tempi di ripristino sono alti per le nostre esigenze, cioè se si rompe un PC per un soccorso, due o tre ore per ripristinare il sistema diventa critico. In area rossa dove ci sono esigenze di salvare delle persone è un problema. Dove abbiamo postazioni che dovranno 24 ore è un problema, animazioni, terapie intensive, intervenire di notte, situazioni di questo tipo sono altri tipi di problematiche, anche perché lì poi non si possono mettere i PC che aspirano tanta aria, fanno questo tipo di ventilazioni. Premesso che poi questi PC sono più di aspirapolvere che altri, perché tirano dentro una quantità di polviscolo che crea un'annugine sui sistemi di dissipazione del calore, quindi creando rotture ancora maggiori. E poi ci troviamo con una serie di modifiche fatte ai sistemi operativi in modo puramente casuale da chi interviene per far funzionare una cosa, modifica, mette l'utente abilitato a scrivere in tutto il disco, quindi crea vulnerabilità. Queste cose sono poco accettabili ormai con i worm che girano, i virus che abbiamo. Quindi circa tre anni fa abbiamo trovato due partner che ci hanno aiutato a virtualizzare i PC. effettivamente noi eravamo ormai da quasi cinque anni che volevamo fare un'attività di questo tipo, cioè portare via i PC dai tavolini, dai scrivani, dai pronti soccorsi, dai ambulatori. Tre anni fa con IBM e Matica abbiamo cominciato un'esperimentazione, abbiamo portato un blade, messo su 30 client virtuali, 10 terminalini wise, abbiamo cominciato a affrontare il problema per vedere se la cosa era fattibile e che problemi nascevano. ci siamo trovati di fronte a una situazione estremamente semplice, cioè l'infrastruttura era semplice e funzionale, era robusta, consumava poco, si installava in modo semplice e facile e poteva essere gestita. Cioè è una situazione estremamente favorevole, perché se io andavo dal mio direttore e dicevo noi vogliamo installare questa cosa, che non so se va, però consuma poco, probabilmente non sarebbe andato avanti tanto. Però la situazione si è dimostrata in una semplicità imbarazzante, cioè una situazione in cui tutto funzionava bene e si poteva a questo punto progredire. Quindi abbiamo affrontato problemi solo di questo tipo, cioè alcuni software fatti male, che usavano periferiche specifiche, che scrivevano su zone di disco non autorizzate all'utente e abbiamo sistemato anche il software a questo punto. Quindi grazie a questo abbiamo dato un po' di ordine, abbiamo sistemato il software, abbiamo sistemato anche tutte le vulnerabilità create da questo, perché il programma che scrive dentro Sysnet32 e magari l'utente abilitato a scriverci ce l'andava dentro anche il worm, quindi creava problemi. Abbiamo trovato che potevamo portare questa infrastruttura anche in situazioni dove avevamo poca banda, quindi i distretti dove c'era la DSL, l'HDSL e il client server occupavano una maniera di spazio. In questa maniera abbiamo portato lì efficienza. Abbiamo rifatto l'aula formazione che era quotidianamente rovinata da chi interveniva. Abbiamo dato i nostri applicativi anche ai medici di base con problematiche di portabilità dell'applicativo estremamente semplici. Via VPN, un desktop remoto assegnato a loro a seconda del profilo e diventava estremamente semplice. Abbiamo dato delle facilite i medici reperibili di notte, quindi di notte il nostro radiologo si connette alle nostre infrastrutture virtuali da casa, via VPN e fa le radiografie, fa la diagnosi e scrive. Stessa cosa per i medici per un soccorso che dà un aiuto da casa, sia questo anche per il trasfusionale e altre parti. Abbiamo dato servizi a enti convenzionati che in questo modo fanno prelievi, fanno prenotazioni e abbiamo fatto funzionare i pc portati di wireless nelle parti che tipicamente non vanno mai, nel senso che l'applicativo client server appena si sposta a distanza perde un attimo la connettività, cade giù il client e uno deve sconnettere e rientrare. In questa maniera la cosa invece funziona e funziona bene. Progetto fase 1, abbiamo preso quei server che ho registrato poco fa, ci avevamo messo dentro 250 client virtuali, abbiamo installato 100 WISE presso CUP, Sportelli e Call Center, 10 WISE per un soccorso, altri 5 in sale operatorie, altri 20 per l'aula formazione, altri 20 per le terapie intensive, abbiamo una rinimazione del Sant'Antonio che è completamente servita da Terminali WISE. Abbiamo dato servizio a 50 medici referibili, a 30 enti convenzionati, abbiamo dato servizio a 30 utenti nostri che sono in mobilità, quindi si spostano, vanno in regione, vanno avanti e indietro e hanno tutti i nostri applicativi disponibili, abbiamo dato il servizio a 50 medici di base e abbiamo abilitato 20 portatili wireless nelle parti. A questo punto abbiamo implementato l'infrastruttura. Abbiamo preso 14 praticamente due chassis caricati a metà IBM, e adesso stiamo installando 700 client virtuali con l'idea di portare almeno migliaio di servizi o migliaio di utenti nostri distribuiti nel modo più vario, quindi sportelli, piuttosto che PC, piuttosto che enti esterni. i benefici noi volevamo ottimizzare, quindi dare efficienza, produttività, quindi ridurre i costi di gestione, dare un'efficienza più alta al sistema. Abbiamo risolto inoltre cose che prima non si poterono neanche pensare di fare, cioè il fatto di portare a casa di un medico di base, il nostro applicativo si faceva dopo tre giorni, visto che l'applicativo doveva essere aggiornato, la cosa non funzionava più, quindi era una situazione che non stava in piedi, non potevamo andare avanti tutti i giorni al medico di base. In questa modo abbiamo risolto anche questo problema. Però, alla fine, siamo accorti che però 700 client virtuali davano un risparmio energetico consistente. Un PC, facendo alcuni conti, costa circa 63 euro l'anno, un PC di tipo tradizionale. Un WISE costa circa 3 euro e mezzo di energia elettrica. I server che abbiamo preso per tenere su i 700 client virtuali consumano all'anno circa 3600 euro tra energia elettrica e condizionamento. Questi conti sono fatti anche con il consumo per raffreddare. Quindi, un'infrastruttura tradizionale sarebbe costata di energia elettrica circa 44 mila euro e qualcosa. Questa ci costa circa 6500 euro. 38.400 euro di risparmio. Che è un risparmio dà efficienza fa funzionare cose che prima non erano neanche immaginabili. io avevo progetti per medici di base e enti esterni che non andavano avanti per motivi ovvi. In questa maniera riusciamo a farlo e abbiamo anche un risparmio quindi possiamo anche ripagarci in qualche anno l'infrastruttura presa. Basta non ho a dire altro se non che è stato veramente una soddisfazione affrontare e risolvere un problema con questi strumenti e penso che pensavo un anno fa di riuscire a portare questa infrastruttura su circa il 50% delle stazioni di lavoro ma visto l'evoluzione che adesso i software danno le virtualizzazioni danno io posso immaginare di portare questa percentuale al 70-80% in giro di 2-3 anni insomma. Va bene non ho altro.